Oggi andiamo a vedere una lezione tenuta a Siria il 17 marzo del 1969 che si intitola Portate i pesi gli uni degli altri. La Bibbia è il libro più pratico del mondo. In esso ci viene detto che uno di nome Simone portò la croce dietro a Gesù. La parola Simone significa ascoltare con comprensione e acconsentire a ciò che si ascolta e Gesù è la tua meravigliosa immaginazione umana. Il Vangelo racconta ciò che accade nell'anima di Gesù. Gli eventi vi registrati non sono visti e sentiti da nessun altro che da Lui. Attraverso queste esperienze egli ottiene la certezza di essere non solo il figlio di Dio ma anche Dio stesso. Ma quando racconta la sua storia pochi l'accettano perché la sua esperienza delle scritture differisce molto dalla loro interpretazione da parte dei sacerdoti e dei rabbini. Simone però capisce ciò che sente e acconsentendo porta la croce. Ci viene detto di portare i pesi gli uni degli altri così adempiere la legge di Cristo. È una legge psicologica. Come vi dice Cristo nel quinto capitolo di Matteo dicendo Avete sentito dire anticamente Non commetterai adulterio Ma io vi dico Chiunque guarda con lussuria una donna ha già commesso l'atto con lei nel suo cuore. Tra parentesi le parole cuore e anima sono sinonimi nelle scritture Quando ti viene detto nel quarto capitolo dei salmi di comunicare con il tuo cuore sul tuo letto non stai comunicando con te stesso? E in quella comunione non ti viene detto che l'atto è commesso? Io vi dico La legge di Cristo è immaginaria E voi portate il suo fartello perché in quanto lo facciamo a uno solo di questi lo facciamo a lui. Paolo vedendo il significato di Cristo disse D'ora in poi non considero nessuno dal punto di vista umana anche se una volta consideravo Cristo dal punto di vista umano non lo considero più così C'è un solo Cristo quindi quando si immagina si sta immaginando il Cristo Ora uno che ascolta e crede questo si chiama Simone E' lui che esce e porta la croce sollevando il peso dalla schiena dell'unico essere che porta tutta la croce poiché ogni uomo è una croce che collettivamente forma la croce che porta al Cristo cosmico Quando uno sente la storia e ci crede esce a sollevare il peso di ogni croce Vedendo qualcuno lotare per pagare l'affitto comprare il cibo perché è finanziarmente imbarazzato Simone solleva la sua croce vedendo l'uomo guadagnare un lavoro Lo fa perché sa che lo sta facendo solo a se stesso dato che non può esserci un altro Come atto psicologico rappresenta l'altro a se stesso come vorrebbe vedere quell'altro e nella misura in cui è autoconvinto che ciò che ha immaginato è vero diventerà vero Simone non sposta una croce da un piccolo punto dello spazio a un altro Egli attraversa la vita seguendo Cristo mentre porta la croce e solleva il peso dell'umanità Molti uomini rimangono dietro la palla 8 perché nessuno ha mai pensato che potesse essere qualcosa di diverso da ciò che appare Per fortuna ho avuto una madre che in tenera età mi prese da parte e mi convinse che ero il suo preferito diceva renderai la mamma molto orgogliosa di te vero? E naturalmente io rispondevo Sì mamma Allora avevo lunghi riccioli bianchi lei mi arricciava i capelli mi passava un dito sul ricciolo mi baciava e mi mandava via Poi chiamava il prossimo per farsi arricciare i capelli La mamma raccontava la stessa storia a ognuno di noi Fu solo dopo che fumo diventati tutti uomini che scoprimo ciò che la mamma aveva fatto ma a quel punto aveva raggiunto il suo scopo Non si aspettava che facessimo una fortuna ma che fossimo uno dei qui lei sarebbe stata orgogliosa e nelle nostre sfere separate abbiamo tutti avuto successo ai suoi occhi Molti uomini oggi sono un fallimento perché nessuno ha mai creduto che potesse essere diversamente Perciò vi dico se credete che ci sia un solo essere e una sola croce sollevate la croce da un apparente altro e come Simone seguite la vostra immaginazione fino al suo compimento Ogni bambino nato da donna è una croce animata da Cristo Gesù così quando sollevate il peso da un neonato o da uno di molti anni lo fate a voi stessi Quando portate i pesi gli uni degli altri adempite la legge di Cristo perché in quanto lo fate a uno di questi più piccoli lo avete fatto a me Se mi credete e mettete in pratica la vostra fede state portando la croce ma se sei così assorto nel tuo piccolo mondo che non riesci a vedere un altro come una proiezione di te stesso non mi credi e non diventerai un Simone Solo se credi e agisci porterai la croce come Simone entrerai nel tempio nello spirito e trovando il bambino lo prenderai in braccio e dirai Signore lascia che il tuo servo se ne vada in pace secondo la tua parola perché i miei occhi hanno visto la salvezza di Dio Chiamato piccolo bambino nel libro di Luca il potere creativo di Dio è simboleggiato come il braccio scoperto nel libro di Isaia In questo meraviglioso capitolo 53 di Isaia il profeta parla dello svellamento del braccio di Dio come la salvezza del mondo e quando la profezia si compie sembra che tu sia stato tradito Ma io ti chiedo cosa ha tradito Giuda? Ha tradito il segreto messianico di Gesù e il luogo dove poteva essere trovato Un segreto deve essere prima ascoltato per poter essere detto Io ho tradito il segreto messianico nel mio libro chiamato Resurrezione quindi ho fatto la parte di Giuda Avendo sperimentato la parte di Gesù ho registrato le mie esperienze in modo che chiunque venga dopo che sono uscito da questa sfera conosca il segreto Il segreto messianico è diverso da quello che credono i sacerdoti del mondo Gesù non è un piccolo uomo che viene da fuori per salvare l'umanità Gesù viene dall'interno perché egli è un modello che si dispiega nell'individuo e lo rivela come il figlio di Dio che è Dio Conoscendo le mie scritture quando le visioni sono venute su di me ho cercato e ho trovato che si intrecciavano l'uno con l'altra Ho condiviso le mie esperienze con tutti coloro che vogliono ascoltare e coloro che le ascolteranno con comprensione le accetteranno diventeranno Simone che prende la croce e alleggerisce il peso della schiena del Cristo Cosmico Quando incontri qualcuno che è disoccupato e ti prendi un momento per immaginarlo impiegato con profitto tu sei Simone Prattica questa arte quotidianamente prendi la tua croce e libera tutti da ciò che sembra essere e così che portate il fartello l'uno dell'altro e così adempite la legge di Cristo che è tutta immaginaria Se ascoltate questo messaggio con comprensione uscirete e adempirete la legge di Cristo Se non mi capite potete non essere d'accordo ma io vi dico questa è la storia più incredibile che possa mai essere raccontata Non è necessario avere una mente brillante per accettarla Infatti più la vostra mente è brillante meno possibilità ci sono che questo concetto venga creduto eppure io vi dico che è vero Chiunque lo accetti un giorno sperimenterà la scrittura dentro di sé perché il Vangelo non è altro che ciò che è avvenuto nell'anima di Gesù che è Geova che è il Signore in voi Gesù è la vostra consapevolezza di essere il vostro io sono è lui che ascolta la storia e l'accetta o la rifiuta Se pensate a un uomo vissuto duemila anni fa quando usò la parola Gesù non vedrete il Gesù in tutti perché Gesù è la consapevolezza addormentata e con un enorme fardello come sogno Se accetterai la mia storia Gesù comincerà a risvegliarsi mentre tu sollevi il suo fardello e porti la croce dietro la tua immaginazione Simone viene prima afferrato e poi la croce viene posta su di lui come l'individuo che sente e comprende e la consente a ciò che ha sentito Se mi credi davvero non passerai davanti a nessuno senza fare qualcosa per sollevare il suo peso Prendendo la sua croce lo rappresenterete a voi stessi come vorreste vederlo e nella misura in cui sarete convinti di voi stessi lo diventerà anche se non saprà mai cosa avete fatto Le cose accadranno nel suo mondo ed egli diventerà quello che tu hai concepito che sia senza sapere chi è stato Ma chi è stato? Cristo Perché c'è solo Cristo nel mondo Non puoi prenderti alcun merito perché quello che fai lo stai facendo solo a te stesso Quando rappresenti un altro a te stesso come vorresti vederlo stai sollevando il suo peso e adempiendo la legge di Dio e quando il tuo tempo sarà compiuto entrerai nel tempio e troverai il segno della nascita del tuo potere creativo come un bambino avvolto in fasce Allora il braccio di Dio che crea ogni cosa si solleverà in te e da quel giorno in poi qualsiasi cosa tu immagini si realizzerà Non mi interessa cosa sia Vi chiedo di soffermarvi su questo pensiero e di seguire il modello di Simone Solleva il fardello di qualcuno oggi e forse domani sarai in grado di farlo ad altri due Non lasciare che un altro rimanga a portare il suo fardello perché non ce n'è un altro Solleva il suo fardello da te stesso e segui Gesù Cristo la tua meravigliosa immaginazione umana Il sogno della vita inizia con la chiamata di Abramo e arriva il suo culmine e compimento di Gesù Cristo Ognuno deve sperimentare e sperimenterà quel culmine Allora calerà il sipario e voi lascerete questa sfera per unirvi alla fratellanza celeste che contempla questo mondo di morte dicendo Ciò che sembra essere è Per coloro ai quali sembra essere Puoi assumere qualsiasi stato e persuaderti che sia così e lo diventerà Anche i tormenti, la disperazione e la morte eterna sembrano essere ma la misericordia divina passa oltre e redime l'uomo nel corpo di Gesù perché alla fine c'è solo un corpo un solo Signore e tu sei quell'unico Gesù Cristo Porterai quell'unico corpo risorto come tuo e sarai l'unico Spirito che lo abita e saprai di essere quell'unico Spirito che è il Signore di tutti Oggi non siete consapevoli della vostra vera identità ma Paolo lo ha reso molto molto chiaro nella sua seconda lettera ai Corinzi quando ha detto se siamo stati uniti a Cristo in una morte come la sua certamente saremo uniti a Lui in una risurrezione come la sua Siamo già morti con Cristo e viviamo con Lui quando il modello di salvezza di Dio esploderà e il Vangelo si dispiegherà in noi individualmente Ora, ogni volta che racconto la mia storia ci sono sempre quelli che conoscendomi per la mia origine fisica non mi conoscono per la mia nascita spirituale vedendo solo l'uomo esterno chiamato Neville giudicano dalle apparenze e sostengono che sto bestemmiando facendo queste audaci affermazioni ma alcuni mi credono e diventeranno Simone sollevando il peso e trasformando la vita di coloro che incontrano non importa che cosa possono sembrare se volete più soldi una salute migliore o il matrimonio Simone sente semplicemente il vostro desiderio come concesso poi va per la sua strada credendo che ciò che ha sentito è ora un fatto fisico che vi affronterà nel prossimo futuro non cerca mai i vostri ringraziamenti ma sa che il vostro desiderio deve diventare realtà perché si è caricato il vostro peso sulle spalle e crede nella sua meravigliosa immaginazione umana quando ascolti e credi nel modello di salvezza di Dio stai credendo in Gesù tutti contengono quel modello quindi tutti sono Gesù non lasciate nessuno in difficoltà non date dalla vostra tasca ma date loro ogni desiderio del loro cuore dalla vostra immaginazione potreste dare soldi da ora fino alla fine dei tempi e non dare te stesso solo quando immaginate per un altro state veramente dando voi stessi e dando credete nella realtà di ciò che avete immaginato state sollevando il peso che siete chiamate a fare adempiendo così la legge di Dio quando senti la gioia di averlo fatto non aspettare che il telefono squilli semplicemente vai per la tua strada e sollevi il peso di un altro e poi di un altro ancora un amico artista recentemente mi ha raccontato di un lavoro che aveva fatto per un amico ma non era stato pagato secondo il loro accordo verbale dopo la sua discussione ho sentito il mio amico dirmi che il debito era stato pagato non ho fatto altro ieri sera mi ha detto che apparentemente di punto in bianco l'uomo è venuto a casa sua e gli ha dato un assegno per l'intero importo concordato ora vi dirò che quell'assegno sarà moltiplicato più e più volte perché ci sono molti artisti che hanno bisogno del suo talento per migliorare il loro allora avete sentito cosa ci sta dicendo qui Neville è che quando avete un amico un parente qualsiasi persona che ha un problema e lo sapete che di qualsiasi natura sia questo problema voi immaginate nella vostra immaginazione una scena in cui vi dice l'incontrario sentite la sua voce che vi ha detto il problema e nella vostra immaginazione la cambiate con la soluzione e così diventate Simone non dire che qualcosa non può essere fatto perché nel momento in cui lo fai stai ponendo un limite a te stesso e non limitare il tuo amico a causa del suo retrotera finanziario sociale o intellettuale questa è una croce pesante da portare per lui piuttosto solleva la sua croce liberalo viviamo in un mondo di orori ma come disse Blake non lasciarti intimidire dagli orori del mondo tutto è ordinato e corretto e deve compiere il suo destino per raggiungere la perfezione segui questo schema e riceverai dal tuo ego una visione più profonda delle eterne bellezze della realtà riceverai anche una liberazione ancora più profonda da tutto ciò che ora sembra così triste e terribile quando conoscerete questa verità solleverete il peso di tutti coloro che incontrerete perché saprete che indipendentemente dal colore della sua pelle dalla lingua in cui parla dal suo credo dalla sua nazionalità voi e lui siete uno perché Dio è uno il grande Shammah della confessione di fede ebraica ascolta Israele il Signore nostro Dio il Signore è uno assumerà un nuovo significato se Dio è uno non può essercene un altro così alla fine tu e io saremo lo stesso padre dello stesso figlio sono stato mandato a trasmettere questo pensiero al mondo l'ho insegnato attraverso la parola parlata e l'ho registrato nel mio libro Resurrezione che è il vero figlio di Dio e Davide ora ho completato l'opera per cui sono stato mandato i sacerdoti non conoscono il mistero sono uomini senza visione che leggono un libro che non capiscono per mia madre un prete era un uomo saggio che non poteva essere contraddetto non ho mai discusso con mia madre su questo ma sapevo che aveva torto da ragazzo avevo delle visioni e sapevo che i preti non sapevano di cosa stavo parlando ma mia madre non riusciva a capire come il suo piccolo ragazzo non istruito potesse sfidare quelli che lei considerava e saggi perché sapevano parlare latino e leggere il greco ma io sapevo che la loro conoscenza veniva dallo studio mentre la mia saggezza veniva dalla visione essendo maturato sono stato chiamato e inviato a rivellare il vero figlio di Dio che unifica l'umanità noi tutti conosceremo con l'unico figlio come nostro figlio perché egli rivellerà ciascuno di noi come Dio padre Gesù Cristo in te è Dio padre e Davide in te è suo figlio verrà il giorno in cui Davide si risveglierà in te sorgerà in te e ti chiamerà padre dandoti una certezza che non può essere negata forse da quello che avete sentito stasera potrete cambiare la vostra convinzione ma non conoscerete mai la certezza della paternità finché non vedrete Davide come vostro figlio e quando ognuno vede Davide come suo figlio non siamo forse l'unico padre stasera vi esorto a fare la parte di Simone se lo fai non trascurerai ma aiuterai te stesso perché come ci dice la storia di Giove mentre pregava per i suoi amici la sua stessa prigionia fu rimossa mentre era chiuso nel suo desiderio di liberarsi dai suoi problemi fisici sociali e finanziari Giove dimenticò se stesso e pregò per i suoi amici e così facendo tutto ciò che aveva perso li ritornò cento volte quando preghi per i tuoi amici scoprirai che la tua stessa prigionia è sollevata la tua croce diventa sempre più leggera finché alla fine tu stesso sei leggero prendete dunque il mio gioco su di voi e imparate da me perché il mio gioco è facile e il mio carico è leggero non chiedere alcun ringraziamento o guadagno economico nel farlo conosci solo la gioia di sollevare la croce perché viene sollevata dalle tue stesse spalle quando sento che i bisogni di un uomo sono stati soddisfatti ed egli si è autoconvinto è vero e diventa vero non gli dico mai quello che ho fatto semplicemente mi godo la gioia e la soddisfazione di vedere questa legge di Cristo compirsi non fallisce mai quando viene messa in pratica credete nella realtà dei vostri atti immaginari perché la fede è fedeltà alla realtà invisibile abbiate fede nel vostro atto immaginale anche se il mondo esterno non lo vede come un fatto esterno la vostra fedeltà alla sua realtà invisibile farà sì che l'invisibile diventi visibile al mondo questo è il lato pratico di questa notte tu e io possiamo sollevare la croce dalle nostre spalle perché mentre sollevo la tua croce sto sollevando la mia in modo che non so che il peso è sollevato da me tutti quelli che incontri sono te stesso reso visibile perché non c'è altro che te stesso nel mondo mentre leggete questi passaggi che ho citato stasera metteteli insieme e avrete un bellissimo mosaico ricordate quando lo fate a uno dei più piccoli di questi lo avete fatto a me colui che il mondo cerca potete vedermi come un piccolo uomo insignificante ma io sono Cristo il Signore Dio Geova solleva il mio fardello anche per l'altro più insignificante e vai per la tua strada potresti non riconoscere il tuo raccolto come potresti non ricordare il favore che è concesso a un altro molti anni fa vedendolo oggi sano e sicuro finanziarmente potresti dimenticare quello che hai fatto e forse anche lui avrà dimenticato di aver mai chiesto il tuo aiuto ma cosa importa il fardello è stato sollevato vai avanti e recita la parte di Simone e il giorno in cui meno te lo aspetti troverai il simbolo del tuo potere creativo come un bambino avvolto in fasce e allora il 53esimo capitolo di Isaia si compierà mentre il tuo braccio di Dio si rivellerà quando le scritture si dispiegheranno in te conoscerai un brivido che va oltre l'ecstasi allora non vedrai più le scritture come una storia secolare saprai per esperienza che la storia è sopranaturale e non ha nulla a che fare con la storia come è la intendiamo noi gli eventi di cui parlano gli apostoli non hanno avuto luogo sulla terra ma nell'anima dell'uomo che cammina sulla terra ho condiviso con voi ciò che ha avuto luogo nella mia anima nella speranza di trovare qualcuno che mi creda al punto di mettere in pratica le mie parole mi sono svelato a coloro che credono e ora cominciano a essere svelati loro stessi mentre i rabbini e i sacerdoti che mi vedono come un impostore rimangono vellati ancora oggi quando si legge in musee il velo è nelle loro menti prego per tutti loro perché sono accecati dalla verità a causa del loro rifiuto di accettare qualsiasi cambiamento nel loro credo fisso sono venuto per fare una cosa chiarire al mondo intero chi è il vero figlio di Dio che unificherà il mondo Gesù Cristo è Dio Padre e suo figlio è Davide quando Davide ti chiamerà Padre saprai che tu sei Gesù Cristo il Signore se io sono Dio Padre chi è mio figlio? Davide vi dico che Davide non è un essere fisico è in spirito che ti chiama Padre e la scrittura si adempie tutti saranno chiamati Padre dall'unico essere che è Davide e se lui chiama te Padre e lui chiama me Padre non siamo forse lo stesso essere? non siamo forse l'unico Dio e Padre di tutti? vi dico che senza perdere la vostra identità individuale saprete che io e voi siamo uno ora entriamo nel silenzio allora prima di salutarvi volevo ricordarvi per chi ha seguito la legge dell'uno è proprio di quello che sta parlando nella legge dell'uno che tutto è uno che c'è solo uno che c'è solo un Dio tutto è uno e noi tutti siamo un corpo unico io mi fermo qui e vi aspetto domani con una nuova lezione ciao a tutti a domani grazie